buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi voglio portarvi a conoscenza di un software che vi permetterà in un unico luogo di utilizzare più exchange contemporaneamente a fare le vostre operazioni di trading ma soprattutto di avere un rendiconto fiscale da poter portare poi al vostro commercialista veramente ben fatto e dettagliato utile soprattutto se si hanno diversi account in diversi exchange con tanti altri fondi che risulta praticamente difficile fare le nostre previsioni di acquisto vendita plus valente eccetera eccetera questo software ci permetterà di risparmiare tantissimo tempo in un'unica applicazione di avere tutto questo ci sarà sia la parte gratuita che si può utilizzare tranquillamente e poi anche una parte in abbonamento per chi vuole ancora più servizi rispetto a quelli che vengono ovviamente offerti nel piano gratuito andiamo a vedere questo software ovviamente dopo la sigla siamo sulla pagina di questo progetto che si chiama a tani e come ho detto poc'anzi ma come potete leggere direttamente sullo schermo che state guardando tutti i due exchange in un'unica piattaforma quindi come detto è una piattaforma only one che vi permette di fare trading con oltre 20 exchange tramite un software completamente non custodia perché gli exchange i nostri conti verranno collegati solo con delle chiavi api dove non ci sarà alcun accesso ai fondi sia in deposito che in uscita queste chiavi api che noi andiamo a creare sull'exchange e le andiamo a importare all'interno del software che scarichiamo saranno salvate localmente sul pc quindi non su dei server privati di atani questo vuol dire che se andiamo a disinstallare il software cancelleremo in automatico anche le api e quindi una volta che vorremmo riutilizzare il software dovremo collegarci all'exchange a ricreare di nuove tutto questo per garantire ancora di più un elevata standard di sicurezza che già avevamo solo collegando le chiavi api dall exchange al software ma così abbiamo ancora un livello in più perché queste chiavi sono solo salvate sul nostro computer su nessun server esterno quindi veramente una cosa utile ai fini della sicurezza per quanto riguarda l'utente da un'unica piattaforma da un unico software con dei semplici clic noi possiamo collegarci ad oltre 20 exchange sui quali magari abbiamo dei conti operare con il trading all'interno di un'unica piattaforma pur avendo i nostri account collegati ai nostri exchange ma soprattutto avere anche un rendiconto di fine anno da portare al nostro commercialista che ci fa la dichiarazione dei redditi per agevolarli nel calcolo eventualmente delle imposte oppure per agevolarli semplicemente per la comunicazione dei fondi che abbiamo all'estero il software è completamente gratuito e non va ad applicare nessun sovrapprezzo per le fide il trading quindi se noi operiamo su buy nas attraverso a tani le fi saranno le stesse che possiamo trovare operando direttamente con buy nas quindi non va applicare nessun sovrapprezzo e nessuna fi quindi vi chiederete che cosa guadagna a tani nell'offrire dei servizi così avanzati e gratuiti a tani essendo un software più che collaudato è veramente partner con gli exchange che possiamo collegare al suo software e grazie agli accordi commerciali che ha stipulato con i vari exchange a tani guadagnerà una piccola commissione delle fi che si andranno a sviluppare ad esempio su buy nas su obis gate punto io su qualsiasi altro exchange partner di questo servizio quindi a tani va a guadagnare una piccola percentuale dalle fi di tutte le transazioni di tutti gli utenti che versano all exchange ad attani stesso e noi potremo godere di tutti questi servizi completamente in modo gratuito e per poterlo scaricare è semplicissimo se volete vi basterà cliccare sul link che trovate in descrizione al video che permetterà di accedere al download di questo software senza incappare in siti mirror o in siti compromessi che eventualmente vi potranno dare dei problemi apri chiudo velocemente una parentesi per quanto riguarda l'applicazione mobile che in continuo sviluppo attualmente scaricandola su io esso su google play store avrete accesso alle vostre cripto valute in sola lettura al momento non è ancora possibile fare trading con l'applicazione ma nei mesi successivi ci saranno importanti aggiornamenti e importanti novità anche per quando riguarda l'evoluzione all'interno dell'applicazione mobile ma passiamo un attimo velocemente a vedere quali sono gli exchange supportati possiamo fare trading in temporale con diversi exchange che sono partner come ad esempio coinbase pro beat stamp kraken binance gemini beat phoenix wb beatrix q coin htbc jacks io poloni ex o coin ok ex gate punto io a bit bit flyer e tanti altri come vedete gli exchange partner sono quelli di tutto il rispetto sono i migliori che possiamo trovare sul mercato è quasi sicuramente ognuno di noi ha un account su ognuno di questi molto probabilmente per registrare come detto è semplicissimo basterà solo poi inserire un indirizzo email e il nostro account non bisognerà fare nessun che essi è una cosa molto importante questo sistema questo software non ha debita nessuna extra commissione di trading quindi non ha fi per l'utilizzo di questo sistema inoltre al suo interno possiamo attivare delle notifiche utilissime che possiamo ricevere addirittura gratuitamente tramite sms email o addirittura telefonate per essere informati in tempo reale sui target che ci siamo prefissati per entrare uscire dal mercato per non perderci il timing verremo avvisati inoltre al suo interno è possibile inserire tutti i tipi di ordine che abbiamo già interpreso nel corso dei video precedenti trattati sui vari exchange come lo stop loss e i tec prof i gli ordini occo la possibilità di selezionare l'interfaccia in semplice avanzata o pro se abbiamo bisogno anche di più strumenti professionali ma una cosa importantissima tutti gli strumenti che troviamo all'interno di atani e l'interfaccia grafica sono strumenti della versione premium di trading view quindi noi praticamente in modo totalmente gratuito oltre ad utilizzare una piattaforma only one oltre a non avere fi extra sulle transazioni stiamo usando nel momento in cui eviamo il software la versione premium di trading view che ovviamente se ci registrassimo su trading view sarebbe a pagamento a noi viene offerta completamente in modo gratuito ma in particolare abbiamo anche un alta efficienza in alta velocità ovviamente di questo sistema per poter impostare i nostri ordine entrare uscire dal mercato e fare il nostro trading è una cosa degna di nota come ho detto all'inizio del video possiamo scaricare il nostro listino portafoglio e calcolo delle imposte a seconda di che zona dell'unione europea ci troviamo addirittura questo rendiconto delle imposte possono anche essere calcolate e sapere perfettamente quanto dobbiamo nel caso pagare quanto riguarda l'italia il servizio del calcolo esatto delle imposte non è previsto ma possiamo comunque scaricare le nostre movimentazioni da portare nostro commercialista o chi per esso per calcolare le imposte qualora le dovessimo pagare oltre al software per desktop è possibile scaricare l'applicazione mobile sia su apple sia su android andiamo a vedere un attimo che cosa offre il piano gratuito oltre 20 che change supportati trend illimitato e ordine avanzati grafici illimitati salvare la abbiamo la possibilità di salvare i nostri layout il monitoraggio del portafoglio in tempo reale notifiche fino a mille mail 200 sms e 30 chiamate al mese gratuite inoltre abbiamo rendiconto fiscale per oltre 30 paesi e supporto tramite mail tutto questo nel piano gratuito vi faccio vedere un attimo il rendiconto demo che si può scaricare all'interno di questo servizio di come potrà essere il nostro rendiconto fiscale dove potete vedere le voci capital gain in cam fram cripto cursi holding in euro margin trading e tutte le operazioni che andiamo a fare all'interno dei nostri exchange funzione secondo me utilissima soprattutto che ci permette di raggruppare tutti i nostri rendiconti di tutti gli exchange supportati all'interno di un'unica piattaforma team e i datori di questo software sono fratelle e sorella che sono investitori del 2013 paul e haidi per quanto riguarda il curriculum di paul barroso che ovviamente è un trader e cripto investitore che ha fatto carriera nel regno unito e ha lavorato per la banca di investimento statunitense di morgan stalling per quanto riguarda haidi barrosa che la sorella che è una trader professionista appassionata di cripto valute esperta nel mondo della finanza ha avuto carriera nella bcg sia in europa che in america e successivamente è diventata cofondatrice di atani sempre nella pagina chi siamo possiamo anche vedere tutti gli altri membri del team operativo inoltre in alto a destra se clicchiamo su attani index e vediamo che è un aggregatore avanzato su solana costruito su solana e sirium cliccando sul lancio d'ex atterriamo ovviamente sull'exchange decentralizzato appoggiato a sirum se colleghiamo e si colleghiamo il wallet appare la schermata classica dove noi possiamo connetterci a phantom legge solid punto io sole extension slope so flare so flare extension che sono tutti wallet non custodial che girano sulla blocce di solana che ci permettono di interagire sui dex per solana questo è un po l'interfaccia come si presenta una volta che avete scaricato il software l'avete installato a terra rete a questa schermata in base anche quanti exchange avete collegato al vostro account per collegare le change è semplicissimo si va sulla voce exchange si seleziona ad esempio binance e si va a inserire le chiavi api sia pubblica che sia quella segreta spostiamoci per un attimo su binance vi faccio vedere come recuperare le chiavi api poi lo stesso procedimento si fa su tutti gli altri change ovviamente la voce api sarà posizionata in posti diversi ma l'importante è capire il funzionamento ci spostiamo su binance alla voce del nostro account andiamo in fondo api management clicchiamo e a questa schermata andiamo a creare la nostra chiavi come nome possiamo tranquillamente inventarlo io metto a tani clicco su create api arrivati a questa schermata ci troveremo davanti alla nostra chiave privata la chiave segreta non vi preoccupate se faccio vedere questi dati perché tanto poi li cancellerò non dovremo far altro che fare un copia incolla questi codici sulle forme richiesti ovviamente nelle forme qua sottostanti andiamo ad abilitare anche lo spot e il margin 3d non abilitate mai i prelievi mi raccomando per abilitare questi sistemi bisogna andare su e di te restrizioni quindi mi raccomando lo sottolineo non abilitate ovviamente i prelievi copiamo la nostra api chi e la andiamo a incollare a questa voce ci spostiamo di nuovo su binance copiamo la nostra chiave segreta ci rispostiamo su a tani e la andiamo a incollare una cosa da sottolineare nuovamente che alcuni exchange vi mostrano la chiave segreta solo per pochi minuti quindi vi consiglio eventualmente di fare un foglio excel un foglio word e andare a dividere exchange chiave api e chiavi segreta così ce l'avete sempre a portata di mano dopodiché una volta che avete copiato questi dati si clicca su collega exchange una volta collegate vi arriverà un'email di conferma dove ci permetterà di iniziare a fare trading arrivati a questa schermata noi possiamo selezionare i nostri exchange suddivisi per exchange ovviamente o addirittura mettendo tutti ci elencherà le nostre valute indistintamente anche se sono su diversi exchange contemporaneamente come vedete in alta sinistra la voce notifica noi possiamo andare inserire una valuta e un target eventualmente di prezzo selezionare le exchange sul quale vogliamo essere avvisati e nel caso essere avvisati via email via sms o per telefonata per il resto funziona praticamente come tutti le exchange noi possiamo selezionare le valute sulla parte destra possiamo comprare o vendere la nostra valuta di riferimento possiamo ad esempio andare a scegliere sand indipendentemente su quale exchange si trova noi possiamo selezionarlo sia da questa vocina oppure dal menu a tendina di riferimento lo possiamo andare a prendere su buy nas wabi kraken e q coin che abbiamo collegato al nostro account ovviamente quella che vi sto facendo vedere e l'interfaccia semplice poi per avere tutti gli stop loss e vari ordini bisogna andare sulla versione più professionale che ricordo è sempre gratuita viene chiamata pro perché ha degli strumenti aggiuntivi bene siamo arrivati anche però già alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che il video lo abbiate trovato utile e sa stato di vostro interesse se avete intenzione di provare anche la versione gratuita di questo software vi invito a cliccare sul link che trovate in descrizione che non è assolutamente un refer al link ma vi permetterà di scaricare in totale sicurezza questo software senza ad andare a incappare in siti mirror che possono creare delle problematiche inoltre vi invito a descrivere al canale qualora non abbiate ancora fatto a lasciarmi un like per aiutarmi con l'algoritmo di youtube e in ultimo ma non meno importante se avete voglia uniti bianca la nostra community telegram vi ringrazio di cuore ciao a tutti